Poi, rimanendo in Sanremo, rimanendo in Toscana, rimanendo in Garfagnana, c'è un altro pilota che è al comando, Stefano Martinelli, che ha un po' imitato Paolo Andreucci, pur non vincendo entrambe le tappe, ha fatto il secondo, nella seconda tappa, Trofeo Suzuki e il campionato italiano R1, e ha compiuto un bel balzo in avanti, in classifica, quindi la Garfagnana... Oltretutto si è tolto anche la remora di gara sfortunata. Infatti, perché nei due anni addietro era una gara che, insomma, gli ha detto una volta male, un'altra volta peggio. Infatti è partito molto abbottonato. Quindi, ambasciatore, ti è andata bene, poi dopo sei andato a festeggiare a Monte Carlo. L'ambasciatore, tra l'altro, mi ha confermato che settimana prossima sarà ospite nostro. Bene, quindi è andato a festeggiare a Monte Carlo, lo vedo anche bello innamorato con la sua morosa e tutto quanto. posta a rotta di collo, eccetera. E vabbè, insomma, mi fa piacere. Tanto io non lo chiamo più per nome, lo chiamo ambasciatore, lui si gira e va benissimo.